Le famiglie italiane in povertà sanitaria sono 1,6 milioni e di queste ben 700 mila risidono nelle aree del sud Italia. Lo evidenzia il rapporto Svimez presentato oggi a Roma in collaborazione con Save the Children, un divario tra nord e sud che si palesa anche nelle speranze di vita. Al sud è di 81,7 anni, inferiore di 1,5 anni rispetto alle altre aree del paese ed è più alta la mortalità per tumore. A fronte di una media nazionale di 2.140 euro, la spesa corrente più bassa si registra in Calabria, Campania e Basilicata. Il mezzogiorno poi, secondo gli indicatori BES, cioè benessere equo e sostenibile, è l'area del paese caratterizzata dalle peggiori condizioni di salute. Un quadro desolante per il mezzogiorno d'Italia sul fronte sanitario. In queste aree i servizi di prevenzione e cura sono più carenti, la spesa pubblica è minore, sono più lunghe le distanze da percorrere per ricevere assistenza soprattutto per le patologie più gravi. Dal rapporto Svimez si evince anche la necessità di rivedere e correggere il metodo di riparto regionale del fondo sanitario per tenere in considerazione le differenti realtà del paese. Per quanto concerne i bambini, pur avendo nel panorama mondiale un servizio sanitario di eccellenza per la cura dei più piccoli, le disuguaglianze territoriali sono molto accentuate, il tasso di mortalità infantile entro il primo anno di vita è il doppio in Sicilia e più del doppio in Calabria rispetto alla regione toscana.